In casa Catania si avvicina sempre di più la linea del traguardo finale. Il primo appuntamento con la matematica promozione, locri permettendo, potrebbe essere la sfida contro il Canicattì con la cornice inedita dello stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, storicamente conosciuto come Pian del Lago. Potrebbe essere lo stadio Nisse nel prossimo 19 marzo a ospitare l'incontro di calcio Canicattì-Catania, valido per la ventottesima giornata del girone I di Serie D. La società grigentina sta disputando le partite casalinghe del campionato al Saraceno di Ravanusa e, in vista del confronto con gli etnei, starebbe valutando l'ipotesi di giocare proprio a Caltanissetta. Lo stadio Tomaselli solitamente può contenere circa 13.000 spettatori, ma in questo periodo è omologato soltanto per 5.000 posti. Nella stessa data era prevista la partita di eccellenza fra la Nissa e il Misilmeri, ma l'appuntamento è stato anticipato a sabato 18 marzo. Per il Catania, dopo circa 20 anni, sarebbe un ritorno storico. Era il 2003 quando la squadra rosso-azzurra, per i problemi causati dall'eruzione dell'Etna e dal sisma che colpì la città, giocò con l'Ascoli nel campionato di Serie B. Per la cronaca, l'incontro terminò con il pari di 1-1 grazie alle reti di Oliveira e Fontana.